Buongiorno, sono Flavio Cosci, sono l'amministratore delegato di Uton Italia. Buongiorno, sono Stefano Ebran, sono responsabile per l'Uton e per l'Europa del Sud. Siamo qua oggi per inaugurare il Customer Solutions Center di Uton Italia, che è una porta d'ingresso per tutti i laboratori che Uton International ha nel mondo. Sono 17 diversi laboratori sparsi in tutti i continenti. Questo Customer Solutions Center è il primo che abbiamo oggi in Europa, anche nel mondo, e speriamo di aprire anche altri da poco in Europa. E questo perché vogliamo vendere o proporre ai nostri clienti come SKF, come Eton, come Alenia o Fiat, non solo prodotti ma anche soluzioni innovative.